Mi dispiace, non abbiamo sedi a rotelle. Le poche in dotazione sono state già distribuite ad altri pazienti che hanno consegnato la fotocopia di un documento ma non le hanno ancora restituite. E' questo il ritornello mortificante che viene ripetuto ogni giorno ai pazienti, non deambulanti, che devono sottoporsi a esami o visite mediche nei reparti del Vito Fazzi di Lecce. Le sedie in servizio sono solo quattro, mentre altre due, riferisce l'operatore addetto, sono in riparazione. Molte sedie sono imboscate nei reparti che se le contendono gelosamente. Il problema della carenza di sedi a rotelle per trasportare i pazienti non autosufficienti nei corridoi dell'ospedale più importante del Salento è stato segnalato più volte alla direzione ospedaliera dall'associazione Centro per il diritto alla salute, che ha uno sportello al piano terra del Fazzi. La stessa associazione suggerisce di aumentare il numero delle sedie nei reparti che più ne hanno bisogno, come ginecologia e pronto soccorso, di dotarle di un contrassegno e di qualche accorgimento per impedirne lo smarrimento, di allungare l'orario di apertura del gabbiotto almeno fino al poveriggio e di coinvolgere le associazioni di volontariato che si farebbero carico di regolare il servizio. La direzione del Fazzi precisa che la ASL ha in corso una delibera di acquisto delle sedie a rotelle e che si provvederà a evitare sbarrimenti e furti. Quanto all'ampliamento dell'orario non c'è personale a sufficienza. Per il contributo offerto dai volontari non è escluso che si possa pensare ad una convenzione. Lo stesso direttore generale Giovanni Gorgoni tranquillizza con una lettera la Presidente Rosa Orlando confermando la procedura di acquisto in corso. Intanto in questi giorni al pronto soccorso sono in arrivo 10 sedie a rotelle. Sempre al pronto soccorso saranno assegnate 10 nuove barelle e 15 tavole spinali. Queste ultime saranno consegnate agli operatori del 118 in sostituzione di quelle in dotazione alle ambulanze che così non dovranno più attenderne il recupero.